Come si fa a cambiare il mondo? A questa domanda io risponderei con un'altra domanda. Perché dovremmo cambiare il mondo? Perché lo reputiamo probabilmente sbagliato, probabilmente c'è là fuori qualcosa che non riteniamo giusto. Probabilmente là fuori c'è qualcosa che riteniamo sbagliato. Probabilmente là fuori c'è qualcuno che ci dà fastidio. Allora quella persona lì, quell'evento lì, quella situazione lì vorremmo che si annullasse. Allora alla domanda come cambiare il mondo, risponderei dicendo, accettando quel mondo che esiste. Chi siamo noi singole cellule di un sistema molto più grande di noi a ipergiudicare che tutto il sistema che ci circonda sia sbagliato. Allora da qui nasce il lamento cronico che caratterizzano italiani. L'italiano medio passa il 90% del proprio tempo a lamentarsi. Oppure a guardare quello che gli altri fanno e a giudicarlo sbagliato. Perché non deve esistere. Perché in realtà se ci fanno caso queste persone, dentro di loro c'è un qualcosa, un vulcano, che al sentire determinate parole li scomoda. Li scomoda dall'interno. Allora invece di fare loro stessi qualcosa di diverso, per migliorare. Perché sarebbe meglio parlare di miglioramento del mondo, piuttosto di cambiamento. Piuttosto che migliorare questo mondo che non gli piace, continuano a lamentarsi. Come se lamentarsi fosse una scelta. Allora queste persone, l'unica scelta che hanno nella loro vita, è abbassare gli altri per non rendersi conto della loro bassezza. Noi creature umane siamo fantastiche. Siamo stupende. Siamo bellissime. Perché abbiamo la potenzialità interiore di vedere ciò che di bello ci circonda. E anche, soprattutto, il nero, il brutto, l'ombra. Tutto ciò che non è accompagnato da luce intorno a noi è bello. Ma riuscirà a cogliere il bello soltanto quella persona che possiede l'apparato del bello. Esiste anche un organo del bello. Un apparato interiore che percepisce la bellezza. E smette di giudicare sbagliato quello che gli dà fastidio. E smette di lamentarsi. Io sfido chiunque in una giornata a non lamentarsi di qualcosa o di qualcuno. Perché dal smettere di lamentarsi avverrà un qualcosa dentro di noi che ci permetterà di diventare di nuovo padroni di ciò che siamo. Smettendo di delegare al mondo esterno il nostro stato. Non c'è niente là fuori che può impedirci di essere ciò che siamo. Non siamo ciò che possiamo diventare semplicemente perché noi per primi abbiamo paura di ciò che potremmo essere. Grazie Grazie